Se io invece di 26 centesimi dobbiamo fare 1,40 euro, ma lei si immagina l'ultima fascia, da 26 centesimi a 1,40 euro, questo è il punto di riferimento. L'acqua Saracena costa 26 centesimi? Diciamo una fetta, 36,90, facciamo una media diciamo 45 centesimi a cosa. 1,40 di partenza, d'ufficio, ritengono di dover determinare le tariffe di un servizio idrico di un paese di 4 mila abitanti dalla provincia di Cosenza. Questi signori, senza conoscere dove è Saracena, senza conoscere come viene gestita l'amministrazione di Saracena, senza conoscere il territorio di Saracena, questo si permette sulla base di alcuni calcoli e alcuni algoritmi di determinare le tariffe. Noi che siamo i più bravi d'Italia siamo messi nel girone dei dannati, noi riteniamo che sull'acqua nessuno ci debba guadagnare. Ecco, in sostanza cosa dice questa delibera? Il delibera dice che noi non siamo coerenti con i tariffari che loro autorità hanno individuati, perché questa è un'autorità che adotta delle delibere. Il governo italiano, invece di premiare un piccolo comune che gestisce bene il ciclo delle acque, si è fatto carico di tutti e quattro momenti, facendo degli investimenti nel corso dei decenni ed ha realizzato un modello che dovrebbe essere esportato negli altri 8 mila comuni italiani, perché noi riusciamo a portare l'acqua pulita in tutte le case, la facciamo arrivare puntualmente, quindi è efficace ed efficiente, noi facciamo pagare il giusto, è efficiente, è efficace ed economico, come dice la legge Galli, perché noi facciamo pagare quelli che sono i costi che l'ente affronta, compresi gli investimenti. In sostanza voi venite puniti perché fate pagare poco. Troppo poco. Noi dicono che non è il rispetto del tariffario. Facendo un esempio, oggi una famiglia… No, dico la mia famiglia, siamo quattro persone, io pago 170 euro all'anno del sistema idrio, compresa la fognatura e la depurazione. E rispettando le tariffe imposte dall'autorità… Dovremmo arrivare a circa 600 euro. Questo significa che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Prefettura, manda un commissario e viene a riformulare il tariffario del servizio idrico. Adesso noi promuoviamo una petizione popolare della cittadinanza che conforta l'azione amministrativa, contestiamo questa autorità perché la prima autorità che esimendisce i principi della legge Galli sono questi signori, questi burocrati, questi tecnocrati. E qui sto offendendo sia i burocrati sia i tecnocrati. E non capiscono che ci può essere un povero Cristo di sindaco di un povero comune come Saracena che fa le cose per bene, che fa pagare il giusto ai propri concittadini, viene sanzionato. Paradossalmente se il comune di Saracena faceva pagare ai propri cittadini bollette… Di 600-700 euro era premiato, era coerente. E l'esempio qual è? La Sorical. Che è la società che gestisce il ciclo idrico. Le tariffe della Sorical sono coerenti con questo. Con la differenza che la Sorical non porta l'acqua in tutte le case. Però la Sorical è coerente. Cioè la gestione sorical di alcuni grossi comuni della Calabria è coerente con la delibera. E l'acqua non arriva o arriva sporca. Questa è la buona amministrazione di Renzi. Sì, sì, questo stronzo di Renzi. Questo mi raccomando non lo cosi. Perché in italiano stronzo significa un concorso ben preciso. E per me lui lo rappresenta in piena. Anche da un punto di vista ontologico. Cioè dell'essenza di quello che significa stronzo. Grazie. Grazie.